Pronti a combattere, Gormiti qui per vincere, Gormiti raggiungibili, chi difenderà? Ciao ragazzi e bentornati al Gormiti Show! Gianni, io oggi sono felicissima! Eh già davvero che sei felicissima perché? Raccontaci! Ma come non lo sai? Eh non lo so, ci sono tante cose per essere felici! Dai pensaci un secondo! Allora, ho capito! È quello che sto pensando io? O che stai pensando tu? Io? Facciamo una cosa! Eh sì, dimmi! Metti le mani così! Sì! Guarda eh! Perché siamo arrivati a... 100.000 iscritti! Wow Giada, 100.000 iscritti sono tantissimi! Grazie mille per seguirci in tutti questi anni! Grazie davvero, non sappiamo neanche come ringraziare! Continuate a farlo mi raccomando! Esatto! E tra l'altro Giada, state partecipando al concorso Vinci Gormiti? Partecipare è davvero facilissimo! Vi basta acquistare un prodotto, dei Gormiti, tenere la prova d'acquisto e andare sul sito vincigormiti.giochipreziosi.it per partecipare all'estrazione e avete tempo fino all'11 giugno! Ah, fino all'11 giugno, quindi dovete sbrigarvi! Ma da poco! Potete vincere dei premi giornalieri e dei premi settimanali, tra l'altro in quelli settimanali! E ci sono questi set giganteschi, grandissimi, coloratissimi, che sono uguali uguali a quelli del cartone animato e dentro ci sono 11 personaggi della serie 3! Mi raccomando, partecipate in tantissimi! Eh sì eh! Johnny, ci sono ancora tantissime sorprese, quindi andiamo avanti! Sì, però io raccolgo il palloncino! Gianni, guarda un po' qui, cosa è uscito oggi? Il Panini Magazine, bellissimo, ma anche io ne volevo uno! Guarda, in realtà sono due! Volevo farti un bel regalo, una bella sorpresa! E vorrei farmi anche una magia! Grazie! Ah, guardate un po' bambini, chi troviamo? Alfa Kilos Gold, tutto dorato! Sì, che bello! Sì, capito, però in tutto questo... Dove sta? A Kilos d'oro? In realtà te lo rubai! Ma ce ne avevi tu! Quindi volevo avere tutti e due io! Ma no! Dai, uno per me e uno per te! E mi hai regalato il Panini Magazine, è giusto che anche io Kilos d'oro! Va bene! Vuoi aprirlo tu? Apro io! Ok! Vediamo, vediamo! È saltato già fuori dalla confezione! Ma è bellissimo, Johnny! È stupendo, è stupendo! È proprio sembra fatto tutto d'oro! Tutto, tutto d'oro! Ma e poi nel Panini Magazine possiamo trovare tantissime altre cose! Allora! Possiamo trovare tanti fumetti inediti con bellissime storie nuovissime! Giusto! Leggiamo un fumetto! Adesso no, abbiamo tantissime cose da fare, pure le leggiamo magari nelle prossime puntate! Bellissimi fumetti! Poi ci sono tanti disegni da colorare! Sì! Ah! E ci siamo ovviamente anche noi! C'è il nostro Gourmetty Show! Non può mancare il Gourmetty Show! Bellissimo! E guarda un pochino anche che cos'è bello! Le vostre letterine! Sì, è vero! Perché le trovate non solo a Gourmetty Show ma anche le Panini Magazine! Bene, bene, bene! E qui ci sono anche tantissimi lavoretti! Poster, lavoretti, bellissime! Il Panini Magazine è da prendere! Assolutamente! Ma adesso Gianni, c'è qualcuno che ci sta aspettando! Un attimo che io prendo i colori e i colori! Andiamo dai! Secondo! Ciao Filippo! Ciao Filippo! Come stai? Bene! Ciao! Ma sei contento di essere qui al Gourmetty Show? Sì! Noi sappiamo che sei un super 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 fan! Vero? Sì! È vero che ti piacciono tanti i Gourmetty? Sì! Vedo che ne hai tantissimi dietro! Eh sì, lui c'ha già il guanto alfa pronto a... Facci vedere un po' la tua collezione! Facci un po' vedere! Qual è il tuo Gourmetty preferito? La Caleone! Bravo! Sei della squadra di Giorgio! Sei nella mia squadra! Sei nel mio team! Ma vedo che hai anche tutti i poster dietro! C'è Riff! Trek! Poi c'è Trek! E poi l'altro? Non riesco a capirlo! Anche io! La Peppi! No! Non riesco a Gourmetty! È giusto a me! Non riesco a Gourmetty! Ah! Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito! Ma facci vedere un pochino la tua collezione, i tuoi giochi! Facceli vedere, vai! Portaceli qui! Facci vedere quelli che ti piacciono di più! C'è anche il titano degli elementi! Facci la Isca, tocchetti qua! Ah, ma con la Isca te lo fai tante bellissime storie, le inventi? Sì! Eh sì, con la mamma e il papà magari inventano le storie, giusto! Vediamo, facci vedere, facci vedere! Facci vedere, facci vedere uno scontro tra Gourmetty! Ah, è arrivato Lord Electrion o sbaglio? Ma lo sai che ha tu e Lord Ken? Questo me l'ha regalato il coniglio Pasquale, questo! Quello te l'ha regalato il papà? Davvero? Ma perché... No! No, no, il coniglio Pasquale! Ah, il coniglio Pasquale! Io ho capito il papà! Ma davvero? Ma che bel regalo che ti ha fatto questo coniglio Pasquale! Veramente bravo, veramente gentile! E Lord Electrion? Chi te l'ha regalato? Babbo Natale? No, la nonna! La nonna! Che bello! Che brava nonna che hai! E sai che ti piacciono i Gourmetty? Così almeno hai ampliato la tua collezione, così... Ma quanto ti piacciono i Gourmetty? Tanto, tanto, tanto? O tanto? Sì, tanto! Tanto? Eh, si vede, Johnny! È una collezione fantastica! Vediamo chi ci porta ora! Facci vedere, facci vedere! A noi piacciono un sacco i Gourmetty! Infatti, hai visto che c'è il Titano qui dietro di noi? Hai visto che è grande? Hai visto quanto è alto? Non ci arrivano... Wow! Hai pure la versione oro, giusto? La versione gold, sì! Ma che belli! Bellissimi! Wow! Ah sì, quella è la versione silver! Eh sì! È la versione silver di nuclear! Giusto, Filippo? Sì! Ma quanti anni hai, Filippo? Non te l'abbiamo chiesto? Quattro! 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 Ma chi vince tra me e Giada durante le sfide con i collezionabili? Avevo detto una puntata nuova, dove... 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 Guardi, ma si ricorda tutto! Sì, 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 è grandissimo! Ma allora sei davvero un super fan anche del Gourmety Show, se ti ricordi pure questa cosa! Giada! Dimmi! Questa è? Per me? Wow! Bellissimo! E quello piace a te, Giada! Eh sì, è l'ortitano, figurati! Questo è il titano... Come si muove! È il titano trasformato! Sì, ma fai delle super battaglie col titano, vero? L'ortitano? Ma guarda... Ho anche un altro titano, guarda! Ah! Ma quanti regali! Eh, vedi, gli piace Chiario, ma ha tanti titani! Giada! Ah, wow! Vabbè, anche questo è bello! Eh sì, sono tutti i tuoi preferiti! È tutta la trasformazione di Lorde Titano, eh! Sì, e a me... Mi piacciono tutti i Lorde Titano! Secondo me è il più forte di tutti, anche se tu dici che è l'Orchè... No, no, è vero, è vero! C'è una collezione super, wow! Wow, wow! Mi sta prendendo tantissimo! Bravissima, facceli vedere! Vai, vai, vai! Taburo! Bellissimo! Versione oro! Versione oro! A noi piacciono tanto le versioni oro che si trovano col panini megani! Eh, infatti, mi sa che lui ne legge tantissime, eh! Eh sì, ti piace il giorn... Bello! D'oro, d'oro! Quindi ti piace il giornalino dei gormiti, vero? Ci notatichi! Eh, abbiamo notato, abbiamo notato! Eh beh, il giornalino è bello, ci sono tante storie, tanti giochi, tanti disegni, poi i poster anche soprattutto da appendere in cameretta! Ma ultima domanda prima di salutarci! Quando noi apriamo una puntata del Gormiti Show, cosa diciamo? Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Al Gormiti Show! Fallo con noi, fallo con noi così rimane bello registrato! Bentornati al Gormiti Show! Bravissimo! Bravissimo! Così hai aperto anche tu una puntata! Faccio un inchino davanti a questo fantastico Gormita che io amo! Grazie! Va bene, allora, il tempo sta scadendo, noi saremo qua a parlare ore e ore con te, solo che dobbiamo andare avanti con la puntata! Vuoi dirci un'ultima cosa prima di salutarci? Una domanda o salutare qualcuno? Qualsiasi cosa tu vuoi dirci, eh! Qualsiasi! Vi voglio bene! No! Anche noi ti vogliamo tanto bene! Grazie tanto per seguirci! Anche noi ti vogliamo tanto bene, ti regaliamo un cuoricino! Però prima di salutarci, vogliamo mandarti un abbraccio super virtuale! Sai come ci abbracciamo noi così? Prima dobbiamo vedere il titano degli elementi! Ah, ok! Giusto, vuole salutarci così! Vabbè, mi sembra giusto, eh! Vero, vero! Con il super saggio! Wow! Guarda, c'è il suo fratello! Guarda, qua c'è il suo fratello gemello! Un po' più grande! Allora... Allora, ti salutiamo con un super abbraccio virtuale! Allora, Filippo, apriamo le braccia insieme, così... Bravissimo! E stringiamo forte! Così come se ci abbracciassimo! Va bene! Ti mandiamo un mega bacione! Grazie per essere stato con noi! Ti vedranno tutti i tuoi amici qua sul nostro canale di YouTube! Se vuoi salutarli! Tutti i tuoi amici! Ciao! Ciao! Grazie! Tutti ciao! Oh, Giada, questo è un momento davvero magico che abbiamo con i nostri bambini! È il mio momento preferito! E, bambini, partecipare è facilissimo! Basta andare sul sito gormitishow.com e seguite tutte le istruzioni! Esatto! Mandateci la vostra candidatura, eh! Giada, guarda! Il codice sconto! Il codice sconto! Ho visto, Gianni, sì, 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 sì! Cos'è il codice sconto? Allora, il codice sconto è un codice speciale che può apparire all'inizio, alla fine, anche a metà della puntata e bisogna essere super attenti perché è super veloce! È vero, è vero, è vero! Una volta che trovate il codice sconto, dovete andare sul sito shop.giochipreziosi.com e scegliete tutti i gormiti che volete e una volta nel carrello dovete inserire questo codice sconto e avrete il 15% dello sconto! Però, Giada, fino a quanto è valido questo sconto? Allora, questo sconto vale dal 4 giugno al 1 luglio. Wow, allora hanno un po' di tempo per partecipare! Sì, 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 quindi state molto attenti! Allora, ora è arrivato il momento della... Bacheca gormitica! Oggi ci sono arrivati un po' di disegni e anche foto! Vai, inizia tu, Giada! Inizio io! Allora, ciao, io mi chiamo Gregorio e vivo in Olanda! Wow, dell'Olanda! Addirittura, ho 7 anni, vi seguo sempre sul canale YouTube! Vi invio un mio disegno e un mio messaggio! La mia hyperbis preferita è Vrago! Spero leggiate il mio messaggio e grazie! Un bacione! Wow, bellissimi intanto i tuoi disegni! C'hai anche le due fotografie sui disegni e la tua dedica! Sì, vabbè, anche le foto! Hai disegnato anche Saburo! Wow, grazie, 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 grazie! Grazie per seguirci! Dall'Olanda, gli mandiamo un bacio... Un bacione grandissimo! Esatto, per l'Olanda! Poi abbiamo una foto! Sì, abbiamo una foto da parte di Federico e ci scrive... Ah, ci manda anche una lettera, che carino! Ok, cari Gianni e Giada, sono Federico, da Origio, ho 5 anni, gioco con 1100 gormiti! Ma ne hai contati tutti! Ed ho inventato una storia con la Iscador! In questa storia i guardiani degli elementi hanno raccolto tutti i frammenti del cuore del titano, ma nel frattempo Irgur e Grobok stavano escogitando qualcosa e si radunarono davanti alla Iscador! Avendoli notati, Riff evoca Alfa Koga e Icor evoca Alfa Kilos! I due guerrieri, utilizzando i cannoni della Iscador, attivati dai guardiani, riescono a sconfiggere i due Eclipsion! Fine! Beh, è una bellissima storia questa! È un bellissimo oggetto fine! Bravo Federico, grazie per averci mandato questa storia, la tua dedica! Poi sei super gormitico perché vediamo che hai tutti giocato i gormiti, eh! Eh sì, c'è anche la Iscador, nella foto con lui! Grazie, grazie! Continuate a mandarci i vostri disegni e le vostre dediche, dove? A gormitishow.com Giada, salutiamo i bambini perché è finita la puntata! È finita la puntata, dobbiamo salutarci! Ma mi raccomando, voi continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube! Esatto, iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like! Un saluto da Gianni! E Zada, ciao! 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 Ciao!